L'8 e il 9 ottobre a Storo ci sarà da leccarsi i baffi. È prevista una sfida all'ultima trisa tra i polenteri della Valle delle Chiese in Trentino. Il Festival della Polenta è anche questo, oltre alla possibilità di assistere ad un cooking show live, dove la polenta viene cucinata in quattro varianti lungo un itinerario del gusto che tocca le principali piazze del centro storico di Storo. Per assaporare queste pietanze della tradizione locale e godere appieno della genuinità di un territorio tra tradizione e autenticità. Grazie.